La vicenda dell'assalto alle cantieri di Chiomonte del maggio del 2013 dopo l'assoluzione per terrorismo dei quattro attivisti processati a Torino, adesso il Tribunale del Riesame ridimensiona le accuse anche per gli altri tre anarchici in carcere da luglio per gli stessi fatti. L'ipotesi di reato era stata formulata all'inizio di dicembre ma i legali si erano apperlati contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'esame si è pronunciato oggi contestando appunto la formulazione del reato di terrorismo per Lucio Alberti, 24 anni, Francesco Sala, 26, Graziano Mazzarella, 23enne per l'assalto al cantiere di Chiomonte. Lo ricordiamo, la Corte di Assise aveva condannato gli imputati tre anni e mezzo per danneggiamenti, resistenza pubblico ufficiale e detenzione di armi da guerra. Nuovo ricorso al tar del comune di Arquata Scrivia contro la TAV del Terzo Valico. Secondo l'amministrazione lo scavo del tunnel dei Giove rischierebbe di compromettere le fonti di rigoroso borlasca che alimentano l'acquedotto di Arquata in parte di Saravalle di Novi. Non ci sono gli approfondimenti richiesti, è la posizione del comune che accusa il COCI, il consorzio che dovrà realizzare i lavori di non avere ottemperato ad alcuna prescrizione. La replica, gli studi sono stati fatti e sono stati anche approfonditi.